e stavolta stavolta ragazzi qualcuno mi aveva detto l'altra volta i playoff non sono nostri non era inteso ancora perché li avevamo già conquistati ma erano nostri perché se no li avremmo persi noi e invece stavolta possiamo dire che ci siamo veramente siamo ai playoff non sappiamo ancora se settimi ottavi perché il Brescia ha vinto e quindi rimane a un punto di distacco però siamo ai playoff la Samp è ai playoff quest'anno e adesso che si può dire che ci possiamo togliere le nostre soddisfazioni diciamo in culo a tutti quelli che all'inizio anno ci davano per spacciati serie C fallimenti e tutte queste cose qua però chiudiamo subito qua questa piccola parentesi andiamo a parlare della partita la Samp vince 1 a 0 con la Reggiana Marassi in una bolgia impressionante io non sono potuto andare chi mi segue di più lo sa comunque tutto a posto ci sarò per i playoff nel caso in cui si presenterà l'occasione ho già lanciato i messaggi giusti nel gruppo speriamo di riuscire a metterci insieme comunque partita nell'insieme che il primo tempo la Samp ha fatto la partita giusta Pirlo è entrato in campo con la squadra giusta ha voluto ha provato ha avuto il coraggio di infilare subito dal primo minuto tre punte perché poi alla fine sono tre punte vediamola come vogliamo però siamo sempre tre punte la davanti De Luca al centro Borini e Esposito dal primo minuto centrocampo Darboe e Iepes e larghi sulle fasce De Paoli e Giordano secondo me la formazione migliore che poteva utilizzare stasera oggi pomeriggio è inizio partita e si è visto veramente un bel primo tempo la palla ha girato molto bene grandissimo gol di Esposito impressionante una punizione veramente bella complimenti vi faccio i miei complimenti un bellissimo gol Pirlo sicuramente sarà contento visto che era la sua specialità non solo quello però soprattutto le punizioni un secondo tempo che però se proprio proprio vogliamo andare a cercare l'ago nel pagliaio diciamo vogliamo trovare qualcosa che non va il secondo tempo siamo calati molto siamo calati molto e abbiamo tirato un po' il fiato per una ventina di minuti la regione è venuta su ha anche segnato per fortuna in fuorigioco diciamo che il secondo tempo con l'ingresso in campo è cambiato qualcosina ingresso in campo nota dolente mi dispiace veramente gli faccio gli auguri perché so cosa vuol dire e gli infortuni in generale nello sport Pedrola si infortuna di nuovo su un contropiede che avrebbe sicuramente segnato comunque portato la palla in porta perché era da solo purtroppo si deve fermare sicuramente un risentimento muscolare più o meno lo stesso dell'altra volta per chi si è toccato la coscia io gli faccio veramente tutti gli auguri ragazzi sfortunato quest'anno veramente un'annata bruttissima speriamo che si riprenda al meglio per i playoff sicuramente credo quasi sicuramente visto come è andato l'infortunio precedente non lo avremo oltre questo ho visto una bella samp ho visto che nel secondo tempo ci abbiamo provato potevamo fare sicuramente di più si poteva chiudere la partita sul 2 a 0 ne avevamo le possibilità le potenzialità ancora una volta grande stankovic quando viene chiamato in causa c'è che dire forza sandoria sempre ci vediamo martedì sera su samtube ci vediamo stasera in live sul mio canale domenica blu cerchiata ore 19 insieme a marco dovrebbe esserci anche marco era un po impegnato oggi tra comunioni che cosa gli facciamo gli auguri mi raccomando ragazzi tutti quanti dicevano non arriverete ai playoff e ci siamo arrivati quindi non mollate grandissimi tutti quelli che erano lo stadio so che una cifra intorno ai 27.000 più o meno comunque doriano più doriano meno vi faccio veramente i complimenti forza sandoria sempre che prendiamoci sti playoff